Salute Giulia Grillo, questo è un lecca lecca, l'ho comprato l'altro giorno al centro di Roma, c'è una piccola particolarità che è un lecca lecca alla cannabis, ci sono questi negozietti, ormai pullo la Roma di negozietti dove si vendono varie cose che hanno a che fare con la cannabis, ricordini, souvenir, ci sono anche delle scatolette dove tu mettono dentro i fiori di marijuana e sono naturalmente da tenere come degli oggetti, però chi l'ha detto che proprio non si rimette in una sigaretta e non si rifuma? Lei è preoccupata di questa cosa? Perché comunque per i ragazzi è un messaggio, che insomma è una cosa non grave, che si può fare, che è permesso. Guardi, preoccupata non sono, però chiaramente il mio ministero sta studiando molto bene la questione, abbiamo posto anche il problema all'avvocatura dello Stato, spieghiamo perché è successo, perché c'è stato un vulnus normativo all'interno di una legge che parlava... Esatto, che ha consentito questa sorta di liberalizzazione. Adesso naturalmente ci sono tantissime attività che sono aperte e che vendono questi prodotti con contenuti comunque ovviamente irrisori, diciamolo, quindi non c'è un pericolo reale. Magari per alcune categorie come per le gestanti o i minori, ad esempio, ovviamente secondo me ci vuole una cautela, quindi probabilmente aggiriamo in questa direzione. Sulla questione educazione, quello è un tema chiaramente molto aperto che si collega poi al tema più generale della liberalizzazione della cannabis. Ecco, lei è favorevole alla liberalizzazione delle droghe leggere? Io personalmente sono favorevole, ma non è nel contratto di governo, quindi poi se il Parlamento deciderà come affrontare la questione, noi come sapete la scorsa legislatura depositammo una proposta di legge in questa direzione. Quindi poi si vedrà, al momento non è in discussione. E per il punto di vista curativo usare la cannabis dal punto di vista curativo? Per il punto di vista curativo, quindi la cosiddetta cannabis terapeutica, ovviamente invece ci sono grandissimi vantaggi per i pazienti che vengono riconosciuti destinatari di questo tipo di terapia. L'unico problema reale che abbiamo invece è che la quantità di produzione è insufficiente a soddisfare le esigenze. Quindi anche su questo il nostro governo, il ministero, ci stiamo impegnando in tal senso, non è ovviamente semplicissimo, ma ci possiamo riuscire.